Ciao, io sono Armando, sono un italiano, vivo in Portogallo, abito vicino Lisbona e per chi è già stato su questo canale sapete che tengo un vlog. Oggi è il 6 giugno 2021, questa è la notte del 6 giugno 2021, io in questo momento sono a Merida in Spagna, sono in vacanza con mia moglie e oggi è il giorno del mio 43esimo compleanno. Nella mia vita in questo momento ci sono tante cose che stanno andando avanti, tante cose che stanno succedendo e l'anno scorso a settembre mi sono sposato, poi abbiamo comprato una casa, poi io ho cambiato il mansione all'interno della stessa azienda e quindi c'è tanta roba che sta succedendo. Tutte queste cose hanno cambiato le mie abitudini, negli ultimi 6 anni tutte le cose che sono successe hanno partecipato a modificare le mie abitudini. Chi segue questo canale sa che prima vivevo in Regno Unito, poi mi sono trasferito in Portogallo e ho parlato in altri video di quello che ho fatto in passato. Se invece siete nuovi su questo canale, a parte potete andarvi a vedere gli altri video, ma in realtà la cosa che è importante, la cosa che è importante pensare è che in questi anni sono cambiate le mie abitudini ed è la cosa su cui ho riflettuto moltissimo in questi giorni che hanno preceduto il mio compleanno. Tutte le volte che noi cambiamo un posto, che noi cambiamo una situazione, si modifica una piccola abitudine. Credo che a un certo punto il fatto di maturare, il fatto di crescere significhi rendere queste abitudini un pochino più stabili, però senza farle diventare una noiosa e inutile routine. Ora, siccome ci sono tante cose che stanno andando avanti nella mia vita, sto costruendo una famiglia, ho i miei due gatti, in questo momento sono in vacanza merita, eccetera, eccetera, ho deciso di cercare una formula per far sì che tutto questo diventi un racconto periodico molto più preciso, non di tutta la mia vita, ma delle cose della mia vita o delle cose che in generale mi colpiscono. Oggi avete visto delle stories su Instagram, se mi seguite su Instagram, tanto trovate i link giù in descrizione, e ora probabilmente se siete qua state vedendo questo video. Io non so cosa succederà da qui in poi, so che ci saranno delle cose diverse. Intanto la prima cosa che faccio è che provo a raccontarvi la giornata di oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora siamo appena arrivati in hotel e ci siamo sistemati, cioè più o meno, insomma abbiamo visto, io ho collegato il cellulare, abbiamo scoperto che lì c'è un frigo bar che possiamo utilizzare per mettere dell'acqua, visto che è vuoto. Qui c'è il letto, l'armadio con lo specchio, il bagno, bello grande con la doccia, però c'è la luce in cucina, tipo che non c'è la cucina, ma ok. Quindi qui c'è il bagno. E niente, ora stiamo cercando di capire come fare a mangiare qualcosa. Poi vediamo il da farsi. A presto. 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 A presto.